Cresce la famiglia del Partito Democratico in provincia di Foggia che nelle scorse ore ha festeggiato il tesseramento del sindaco di Peschici, Luigi Darenzo, eletto lo scorso maggio con oltre il 75% dei consensi supportato dalla lista civica Siamo Peschici. Sale a 14 il numero dei primi cittadini con la tessera verde, confermando l'obiettivo del partito per questo 2024 di rafforzare e consolidare la presenza sul territorio anche e soprattutto attraverso nuovi ingressi e presidi. L'apertura ai civici e ai vantaggi di un'organizzazione strutturata e della vicinanza alla filiera istituzionale i motivi che hanno spinto e convinto il sindaco della cittadina garganica. Entro a far parte del PD per una questione di appartenenza ma anche perché finalmente c'è un allargamento verso l'esterno. La cosa più importante poi tra l'altro fa parte di un partito strutturato e anche la filiera istituzionale a cui poi si fa riferimento. Per il resto altri sindaci del PD con cui mi sono confrontato in questo periodo si è instaurato un rapporto bellissimo di collaborazione, sono sindaci garganici per cui vogliamo fare rete, vogliamo fare sistema per far grande le nostre qualità. Con l'ingresso del sindaco di Peschisi, Luigi D'Arienzo, cresce la famiglia del PD, cresce la famiglia degli amministratori aderenti e tesserati al PD di Capitanata. Una Capitanata che nel 2024 sarà impegnata in appuntamenti elettorali importanti come le europee ma soprattutto 16 comuni della nostra comunità provinciale andranno al voto e il PD sarà presente lì forte della sua determinazione politica, presenza politica di soggetti e di tesserati ma anche e soprattutto di tanta gente che ha voglia di impegnarsi politicamente e mettersi al servizio del proprio territorio.